E quando andavo a scuola ovviamente c'era da studiare e tutto, allora alcuno pensa che lo studio non serve a niente, e invece per esempio nel caso della storia, la storia che serve? Ma io l'ho capito dopo, la storia serve per ricordare gli errori che si sono fatti nel passato, per permettere a voi di non farli più in futuro. E se noi perdiamo la memoria di quello che è successo nel passato, li ripeteremo, perché? Perché l'essere umano fondamentalmente è una chiarica, no? Allora, per evitare che pure facciate gli stessi errori, ecco che iniziative come questa bellissima creata da questo signore ci permetterà proprio questo, ci permetterà di andare nel passato per non ripetere gli errori. domani. Questa è una storia sempre.